L'importante era riuscire a portare a casa 2-7 e forti del 3-0 dell'andata passare agli ottavi di Coppaceva. Trento ha vinto il match di ritorno con Luricani-Loi ma per 3-0 con parziali al 18, al 19 e ancora al 19. Mister Lorenzetti non completamente soddisfatto dopo la brutta sconfitta di Perugia anche in questo match di ritorno di Coppaceva ha avuto qualcosa da ridire ma ha dato spazio a qualche giocatore che si vede meno. Per esempio Matteo Burgstahler che al centro in coppia con Van de Vorde si è giocato tutti i tre set e ci ha raccontato era un anno che non succedeva di giocare un'intera partita. Matteo Chiappa schierato come libero dal primo all'ultimo scambio a fare le veci di Max Colaci. Per il resto Gennelli in diagonale con Ian Stocker, Ilati, Oleg Antonov e Tine Urnaut sostituito in corso di gioco nel terzo set con Tiziano Mazzone. Ma andiamo a sentire oltre alle parole di Mister Lorenzetti che commenta questo passaggio del turno anche proprio i giocatori, i protagonisti di questa sera Matteo Burgstahler e Matteo Chiappa. L'approccio è stato buono, permangono costantemente delle cose comunque buone che facciamo permangono insomma delle inesattezze che per l'alto livello paghiamo e che oggi abbiamo un pochettino ripetuto, è ovvio che perfetti non si può essere però su certe cose secondo me un pochettino abbia attenzione darebbe anche più valore al lavoro che i ragazzi fanno durante la settimana che tanto. Metabolizzare domenica non è stato facile e obiettivamente c'è un occhio a dieci giorni qua avanti quindi dai, è andata bene così, l'importante è il risultato. Che bello è giocare una partita dall'inizio a fine? È molto emozionante, è stata una grande opportunità e voglio ringraziare il coach che mi ha dato questa opportunità e sono molto contento. Sensazioni personali? È una grande emozione davvero, poi comunque giocare con questi ragazzi è molto più facile tirando la vita più facile in campo quindi bene così.